Senti, com'è andata? Sei partito forte al primo tempo, hai agevolato i due gol, prima con i piedi, il lancio lungo su Inou, e poi con le mani il passaggio a metà campo. Nella ripresa sembravate un po' discontinuo in difesa, per usare? Ci sono state alcune incomprensioni, diciamo così. Sì, sono molto contento della prestazione della squadra. È vero che ho aiutato, diciamo, fatto il mio sui nostri gol, però è anche vero è quello che ci chiede il mister, quindi diciamo per noi è la normalità fare queste cose. Nel secondo tempo è vero anche che siamo calati, ma loro si sono alzati, hanno alzato il ritmo e quindi abbiamo, diciamo, non gestito, ma abbiamo... c'era il momento di difendere e quindi ci siamo messi lì dietro, abbiamo aspettato, abbiamo cercato di ripartire e poi è andata come è andata. Siamo stati fortunati alla fine a trovare il gol della vittoria. Senti, cosa hai pensato? L'ultimi due minuti la tua Coppa Italia te la sei ripresa, eri già pronto forse a fare i supplementari. Sì, la testa era lì sul campo, ma pensavo anche di arrivare ai supplementari. Quindi, come ho detto prima, è stata per me una sorpresa. in quel momento ho amato ancora di più i miei compagni perché ci siano tolti un bel peso alla fine. Senti, adesso è vero che in porta in campionato c'è Chichizzola, ma cosa portate da questa partita? Aver battuto una squadra di Serie A, averla battuta giocando e anche giocando loro, visto che ci tenevano nel secondo tempo. Noi ogni partita portiamo in campo le nostre idee, andiamo su ogni campo a giocare, a fare il nostro gioco. Siamo una squadra giovane, stiamo imparando, partita dopo partita impariamo ogni volta e oggi siamo stati bravi a confrontarci con una piazza da Serie A. A te che sei l'unico parmigiano in campo, da tempo soprattutto, quei 78 che sono arrivati qua e tu li vedevi dalla tua postazione, sia di qua che di là, cioè ti sei sentito un po' più... Sì, nel primo tempo che ce li avevo proprio vicino, mi sentivo quasi protetto da loro, sentivo il loro supporto, i loro cori. Nel secondo tempo li vedevo là, cantare come sempre, sono stati speciali anche loro. A fine partita sono andato là a salutarli tutti, mi hanno regalato anche una sciarpa, quindi è stato un bel momento. Prego, dopo il pareggio del Lecce, che l'inerzia era passata proprio nelle mani della squadra avversaria, quanto ti senti decisivo su quell'intervento di piccoli e soprattutto ti chiedo se è quella la parata più difficile della serata? Sì, mi sento decisivo. È stato un momento che stavamo soffrendo, è vero. Sì, è stata una bella parata, però la parata più difficile è stata quella sul tiro da fuori aria, che poi ha fatto gol in fuorigioco, che ha rimbalzato davanti a me con questo campo e questi palloni, la palla parte a mille, quindi quella per me è stata la più difficile. Grazie a tutti, buona serata, buon lavoro. Ciao, grazie.